Buonasera a tutti, sono le 18.04 di sabato 25 novembre e il secondo indice che andiamo ad analizzare con la ciclica voluta è il DAX. Il DAX che sta continuando a spingere su come il fratello maggiore, l'S&P, di cui ho fatto da poco l'analisi. E vi faccio notare che ci sono varie analogie, siamo sempre potenzialmente a 10 giorni sul terzo T-3, no sul secondo forse T-3 perché qui forse non ho controllato bene, vediamo, no è il terzo ciclo settimanale voglio dire in questo caso. siamo già arrivati a 24 barre mentre invece su S&P siamo indietro e che cosa vi avevo raccontato? che era estremamente probabile che fatto questo movimento a 11 barre avremmo avuto un po' di discesa, pochissima come vi ho fatto vedere forse nel video di ieri o dell'altro ieri e poi ci saremmo vincolati a continuare a salire. che cosa stanno facendo? Eccoci alla quinta candela di giornaliera inversa, del settimanale inverso, che se volesse chiudere lunedì il settimanale inverso ed anche il mensile inverso avrà da fare abbastanza poco, ok? Non sono sicuro che ci riesca lunedì, può essere più interessante prima, come dicevo anche nel video di S&P 500, fare una chiusura di settimanale, anche soltanto, lato indice e guardate che settimana si è fatto il DAX. Andando long su ogni media mobile avremmo potuto andare tranquillamente a continuare a salire e eccoci qua, e qui siamo già andati a 198 barre ma nella realtà dei fatti ci interessa vedere che siamo al sesto T-3 inverso anche se la chiusura del settimanale inverso a 5 barre non c'è. 5 barre può essere un raccordo di grado T-1 però tra dei T più 2 inversi. Abbiamo dei T più 2 inversi ai messi, per cui lunedì invece che tirare il dado e vedere che cosa succederà, anzi, invece che fare una previsione per lunedì e tirare il dado e vedere che cosa succederà, sappiamo che basta poco per chiudere un mensile lato indice, con che cosa lo chiudiamo da regole? Lo chiudiamo con un T più 2 meno 3, T meno 1 ribassista e quindi tornando sotto questo minimo e che poi abbiamo ancora tempo eventualmente, se non sarà raccordo inverso tra mensili inversi, di continuare a salire per chiudere il settimanale inverso già completamente vincolato ad andare su. Esattamente come dicevo per S&P 500, da qui a meno di volumi pazzeschi che ci riportino rapidamente al 50% e poi sotto, sta partendo che cosa? Quello che vi dicevo sarebbe partito se avessimo violato il .j, ovvero un nuovo annuale, chiuso l'annuale precedente, ciclo annuale precedente, a 275 bar su in media 256, al massimo 336, può partire direttamente con una semplice V, il nostro nuovo annuale che come target ci riporterà a chiudere questo gap down del 2 di agosto e poi tendenzialmente sopra il massimo a 16.528,97, anche se stesso discorso fatto per l'annuale inverso di S&P 500, siamo già a 84 barre, d'accordo? Per cui da lunedì che cosa faremo? Uno, ovviamente, attenzione alle possibili eventuali discese, attenzione ai vincoli ribassisti, ricordandoci che la tendenza volumetrica è fortissima a rialzo e che quindi si può valutare se fare degli short temporanei ma ha proprio rischio e pericolo. diventa più semplice assecondare, eventualmente dopo una discesa, dopo una chiusura di mensile o dopo una chiusura di settimanale, di nuovo la salita per tornare, se non sarà il raccordo inverso, sopra i massimi a 16.041,17. Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo e vado ancora di più a riposare e a tifare sin no. Buonasera da tutti! Grazie!